Oggi come ospiti abbiamo Davide Righi e Lorenzo Camporese che fanno parte di due associazioni di volontariato che prendono il nome di Monezzari Parma e Decobooster che collaborano da circa un anno con il progetto Clean Up Parma per raccogliere una serie di volontari appunto per ripulire la città di Parma dai rifiuti. Vi do il benvenuto e parlerei subito con la prima domanda. Vi chiederei come si collegano le vostre attività all'interno di organizzazioni, eventi nell'ambito parmense e anche nell'ambito green. Come si diceva siamo due gruppi di volontari Ecoboosters e Monezzari di Parma. Siamo privati cittadini che si sono uniti per una causa comune ovvero il voler fare qualcosa di concreto per l'ambiente e per la natura. Spesso e volentieri collaboriamo con altre realtà parmensi al fine di ottenere quella che è una rete di comunicazione per essere vigili e avveduti sul fronte ambientale. Organizziamo tutte le settimane attività sul campo che spaziano dal tema dei rifiuti ad argomenti anche di più vasta portata come biodiversità e cambiamenti climatici. Come nasce il progetto di Clean Up Parma e qual è la mission? Abbiamo fatto convergere il nostro impegno per l'ambiente in questo progetto appunto Clean Up Parma e questo ha come obiettivo ultimo la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della natura e dell'ambiente per far comprendere loro come noi tutti siamo parte integrante di complessi ecosistemi da salvaguardare al fine di vivere in un mondo più giusto ed integro. Qual è il vostro segreto? Perché voi? Cosa avete di più rispetto ad altre attività di volontariato fatte dai giovani? Crediamo che il nostro segreto sia quello di inserire in un'ottica di gioco le attività che proponiamo infatti si impara, si svolgono attività per l'ambiente e allo stesso tempo ci si diverte. Probabilmente siamo tra le realtà più attive e pronte a intervenire sul territorio, questo soprattutto dal punto di vista dei rifiuti tant'è che la gente ci segnala zone potenzialmente degradate e noi organizzando il nostro calendario le inseriamo come aree target in cui agire. Per quanto concerne l'accolto dei rifiuti, al termine delle stesse determiniamo la massa raccolta in una determinata area per avere anche idea del degrado della zona indagata. Quindi oltre a creare un approccio di tipo qualitativo per appunto la sensibilizzazione, abbiamo anche un approccio quantitativo, quindi di monitoraggio. Nell'ottica di gioco abbiamo di racconto introdotto una cosa che abbiamo chiamato Tocket che sono di fatto dei piccoli cubettini in legno che vengono dati alla fine delle raccolte a tutti i partecipanti in base a dove si trova la raccolta e con il tempo consentono di raggiungere diversi livelli e di ricevere quindi dei premi oltre di poter dire esempi di essere di livello 1, di livello 2 e di essere magari esempio un veterano della raccolta. Allora proprio da questo punto di vista la prossima domanda è che cos'è che attira tantissime persone a venire ai vostri raduni per ripulire la città e soprattutto da questo punto di vista che ruolo assumono i vostri social e che ruolo hanno? Per comunicare le nostre iniziative utilizziamo Instagram che è più usato dai giovani tendenzialmente e Facebook che è invece più utilizzato da altre fasce di età. Collocando le fine settimana, di solito sabato o domenica, tentiamo di raggiungere il maggior numero di volontari e in realtà pubblichiamo anche i resoconti delle nostre attività mettendo in evidenza diciamo gli aspetti più rilevanti anche d'effetto che hanno caratterizzato quest'ultime. In linea generale notiamo un trend in salita per quanto concerne la partecipazione dei cittadini e delle cittadine e oltre a questo notiamo un importante ricambio di persone che indice a nostro avviso di una consapevolezza sempre più radicata. Allora, nell'ambito della vostra attività, quali sono stati i risultati raggiunti fino ad oggi e con che numeri? Ad oggi, a novembre, erano arrivati a 1500 circa chili raccolti che poi sono continuati ad aumentare. Non stiamo più tenendo la somma di tutti questi numeri però un mese fa abbiamo avuto il nostro numero record che sono 380 chili di rifiuti raccolti in un paio d'ore con circa 25-30 volontari in un'area piuttosto ristretta di una zona di Parma, precisamente la zona Palos P per Parma Retail e ultimamente cerchiamo sempre di avere più gente possibile e di andare nelle zone più degradate in modo da raccogliere sempre un buon numero di rifiuti per fare più bene possibile l'ambiente e gli hotspot, per così dire, le zone target sono laddove ci sono specie, animali, vegetali che potrebbero essere compromesse appunto dalla presenza degli stessi rifiuti. Non a caso interveniamo in luoghi come appunto il Greto della Parma e zone in cui si sa appunto essere presenti determinati animali che nidificano o comunque sono molto presenti. Come si porterà avanti il vostro progetto? Quali sono i vostri obiettivi e progetti futuri? Come si diceva nell'introduzione stiamo cercando di creare una rete di comunicazione tra più realtà parmessi e non solo tant'è che a suo tempo siamo intervenuti nel Delta del Po tramite una raccolta di rifiuti appunto nelle spiagge del Lido di Spina e oltre alla costruzione di questa rete a nostro avviso essenziale è importante altresì, secondo me diciamo interagire con le pubbliche amministrazioni quindi con realtà più appunto legate agli aspetti più sociali per così dire infatti abbiamo diversi contatti insomma già spianati per così dire siamo pronti insomma a creare a determinare appunto questo tipo di relazioni. Vi ringrazio per la vostra testimonianza positiva speriamo che possa far venire a voi tanti altri giovani in attività così positive riguardanti appunto la pulizia delle città vi ringrazio per essere stati qui con la vostra testimonianza e vi faccio ancora i complimenti. Grazie mille per la disponibilità. Ciao a tutti, sono Valentina Jedi della Fondazione Margherita Hack oggi vi parleremo dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma Al fianco del Ministero della Salute delle Regioni e dell'intero Servizio Sanitario Nazionale c'è l'Istituto Superiore della Sanità a sede a Roma ed è il principale centro di ricerca controllo e consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica. Ci lavorano 1800 persone fra ricercatori tecnici e personale amministrativo il loro principale obiettivo è la tutela della salute dei cittadini. L'Istituto orienta le politiche sanitarie sulla base di evidenze scientifiche dalla prevenzione fino al contrasto al cancro e alle malattie croniche e neurodegenerative dall'autismo alle malattie rare da quelle infettive fino alle dipendenze patologiche. Le principali attività sono distribuite in sei dipartimenti 16 centri nazionali 2 centri di riferimento 5 servizi tecnico-scientifici è un organismo preposto alla valutazione dell'idoneità dei dispositivi medici. Oggetto dell'attività dei laboratori è tutto ciò con cui quotidianamente le persone vengono a contatto e che può avere effetti sulla salute. Dalle radiazioni ionizzanti alle elettrofrequenze, le sostanze chimiche, i contaminanti nell'aria, del suolo, dell'acqua, la nutrizione e l'alimentazione in tutta la sua filiera. La qualità e la sicurezza delle cure e la valutazione delle tecnologie per la salute sono anch'esse attività in uno scenario in cui invecchia la popolazione e aumenta l'innovazione, grazie alle quali l'Istituto contribuisce alla sostenibilità dell'intero sistema della prevenzione e la cura. Se ricerca e controllo sono il cuore dell'Istituto, alcuni canali sono rivolti direttamente al cittadino. Infatti, i telefoni verdi orientano gli utenti e li indirizzano nei centri specializzati garantendo su temi come le malattie rare, le malattie sessualmente trasmissibili e le dipendenze. Qui c'è la garanzia di avere un'informazione chiara e qualificata. Anche il museo, aperto su prenotazione a scuole e cittadini, custodisce, oltre che la memoria storica, anche un patrimonio di conoscenze offerte a tutti nell'ottica di promuovere la crescita della cultura scientifica, da sempre incindibile legata anche alla promozione della salute. Diamo il benvenuto a Enzo Favoino, ricercatore e coordinatore del Comitato Scientifico di Zero Waste Europe, nonché coordinatore scientifico della campagna A buon rendere molto più di un vuoto. A buon rendere molto più di un vuoto è una campagna lanciata dall'Associazione Comuni Virtuosi. Ma come è nata questa iniziativa e quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati? Ma l'iniziativa è nata essenzialmente per due stimoli. Uno che ci deriva dal quadro regolamentare, la direttiva sulle plastiche monouso che è stata recentemente recepita in Italia. Una delle previsioni forse più nascoste ma più importanti e preziose della direttiva è quell'obiettivo di intercettazione del 90% delle bottiglie in P&T per liquidi alimentari entro il 2029. Da subito c'è stata la consapevolezza a livello europeo e anche nazionale che per raggiungere tali obiettivi di raccolta differenziata bisogna introdurre un sistema di deposito cauzionale. Quindi questo è lo stimolo che è derivato dal punto di vista regolamentare e poi c'è un altro stimolo che è derivato dalla realtà fattuale operativa. Cioè abbiamo visto che i vari paesi europei ce ne sono già una decina più Norvegia e Islanda che non fanno parte dell'Unione Europea anche se sono raccordati per le politiche ambientali che hanno già adottato dei sistemi di deposito cauzionale hanno dei risultati di intercettazione recupero e circolarità nella gestione dei contenitori per liquidi che sono marcatamente superiori rispetto agli altri paesi che non ce l'hanno ancora. Tant'è vero che un'altra decina di paesi europei ha già programmato con degli atti ufficiali l'introduzione del sistema di deposito cauzionale. Da questo punto di vista c'è da dire che anche l'Italia ha una previsione di questo tipo è una previsione però ancora molto vaga è un emendamento che è stato approvato per iniziativa del senatore Penna all'interno del decreto semplificazione del luglio 2021 e prevede sostanzialmente l'introduzione di sistemi di deposito cauzionale per aumentare il riutilizzo. Non dice molto altro prevede l'introduzione di decreti applicativi e parla solo di riutilizzo quando il merito del sistema di deposito cauzionale invece è quello anche e soprattutto di massimizzare anche il riciclo il riciclo di buona qualità come avremo magari poi modo di specificare e proprio per questo noi abbiamo lanciato assieme a una vasta coalizione di associazioni ambientaliste ma non solo anche associazioni attenti alla preservazione della bellezza del territorio per motivi che avevamo modo di spiegare abbiamo lanciato questa campagna a buon rendere molto più di un vuoto per innestarci sulla discussione sul dibattito istituzionale e riempirlo con contenuti informazioni e soprattutto come noi pensiamo che un sistema di deposito cauzionale debba essere progettato adottato ed implementato sul territorio nazionale in modo da essere performante come in altri paesi europei. Ci ha detto che in Italia si è già cominciato a parlare dell'introduzione di questi sistemi ma che probabilmente i tempi saranno lunghi nello specifico però quali sono i vantaggi che il nostro paese può trarre dall'introduzione di un sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso delle bevande? Sarebbero verosimilmente analoghi a quelli che già si sono registrati nei paesi che analogamente hanno adottato il sistema di deposito cauzionale c'è un dato che più di tutti rappresenta clamorosamente quello che è il vantaggio incrementale dell'adozione di un sistema di deposito cauzionale ad esempio il tasso di intercettazione delle bottiglie in P&T abbiamo già richiamato quello che è l'obiettivo definito dalla direttiva sulle plastiche monouso che è il 90% di intercettazione al 2029 e in Europa la media nei paesi con deposito cauzionale è il 94% quindi dimostra che riesce a conseguire l'obiettivo che è definito all'interno della direttiva sulle plastiche monouso mentre la media nei paesi senza deposito cauzionale è il 47% questo però è solamente il tasso di raccolta selettiva poi c'è il tasso di circolarità perché dalla raccolta al riciclo ci sono vari altri passaggi che sono i sistemi di selezione negli impianti di selezione il riprocessamento all'interno di materie prime e seconde e poi l'immissione sul mercato e da questo punto di vista è anche la qualità del materiale che viene intercettato che gioca il suo ruolo perché siccome il sistema di deposito cauzionale riesce a intercettare dei materiali in purezza a differenza dei sistemi di raccolta differenziata che ha per sua natura hanno per loro natura le proprie imperfezioni allora aumenta il tasso di riciclo effettivo e soprattutto il cosiddetto riciclo closed loop cioè nel caso del PET da bottiglia a bottiglia e non il cosiddetto downcycling da bottiglia a tessuto artificiale che è quello che avviene per la maggior parte adesso per dire attualmente il destino del PET in Europa è di essere riciclato per circa il 40% ma solamente il 7% è usato per fare nuove bottiglie col sistema di deposito cauzionale questo tasso di circolarità aumenta notevolmente c'è poi un altro vantaggio che a noi piace senz'altro ricordare ed è il motivo per cui la campagna ha avuto da subito l'adesione delle associazioni come il Touring Club italiano attenti anche alla preservazione della bellezza del territorio che è la diminuzione del cosiddetto fenomeno del littering cioè la dispersione di materiali di rifiuto materiali monouso sostanzialmente usa e getta nell'ambiente che a sua volta comporta tutta una serie di problemi non solo la perdita di bellezza di amenità dei nostri paesaggi ma anche l'ingestione da parte della fauna selvatica o anche degli animali di allevamento c'è un grosso problema ad esempio l'ingestione da parte degli animali al pascolo oppure degli animali a stabilazione fissa perché poi nel taglio dell'erba per fare foraggio viene tirato su anche il materiale che è stato disperso nell'ambiente tramite appunto il fenomeno del littering ecco dare un valore ai materiali col sistema di deposito cauzionale va sostanzialmente ad annullare questo fenomeno del deposito del littering e quindi c'è un vantaggio economico anche per la comunità perché i comuni poi non si devono più fare carico della rimozione di questi materiali dispersi nell'ambiente fatto sta che portando tutto quanto a somma ci piace ricordare il risultato di un sondaggio che abbiamo fatto eseguire da una società professionale di sondaggi a livello nazionale che ci ha restituito una quota dell'83% degli italiani calcolata su un campione ovviamente rappresentativo nelle diverse zone geografiche con una buona distribuzione per sesso età e quant'altro l'83% degli italiani si è detta favorevole all'introduzione appunto di un sistema di deposito cauzionale per tutti i potenziali vantaggi che abbiamo appena raffigurato visto che a buon rendere molto più di un vuoto è un progetto per l'economia circolare e lei si occupa anche di consulenza su queste tematiche secondo lei quali sono le difficoltà principali incontro cui va un'azienda che decide di orientarsi verso sistemi di economia circolare la domanda è molto interessante in realtà direi che dal punto di vista tecnologico e organizzativo le aziende hanno tutti gli strumenti per potersi adeguare a quelle che sono le innovazioni che vengono definite da un nuovo quadro di riferimento strategico regolamentare e quant'altro se posso a me piace sempre citare l'affermazione di un officer di un rappresentante di alto livello della commissione europea all'assemblea ambientale delle nazioni unite che si tenne a Nairobi circa tre anni fa e siccome si parlava soprattutto dell'iniziativa europea sulla plastica la strategia europea sulle plastiche era appena stata adottata la direttiva sulle plastiche monouso che poi è stata trasposta nei vari ordinamenti nazionali due anni dopo veniva chiesto ma come mai l'Europa ha inteso adottare questa iniziativa senza aspettare che il settore si strutturasse da solo generando da solo le risposte e rappresentante la commissione europea secondo me ha definito benissimo il concetto dicendo noi sappiamo che l'industria è sempre pronta ad adottare e implementare innovazione ma ogni tanto ha bisogno di un annaggio il concetto di annaggio è quello di spinta gentile per spinta gentile evidentemente intendeva direttive e obiettivi regolamentari che siano legalmente vincolanti in modo non solo da spingere ma soprattutto da causare quello che noi chiamiamo l'allineamento delle intenzioni dell'organizzazione della capacità tecnologica e quant'altro tra tutti i soggetti della filiera perché poi non basta solamente la buona volontà ad esempio del riciclatore i riciclatori sono sempre pronti a dire noi siamo pronti a prendere materiali e tramutarli in nuove risorse da immettere nuovamente nel circuito di produzione e consumo e però non basta questa loro volontà ci vuole qualcuno che organizzi la raccolta differenziata i comuni e poi ci vuole il soggetto intermedio cioè chi sappia organizzare questi sistemi di raccolta e di selezione e poi il mercato si deve attrezzare per aumentare la capacità di assorbimento dei polimeri di riciclo anziché i polimeri vergini della cosa su cui sta lavorando adesso l'Unione Europea ad esempio col concetto dei contenuti minimi di riciclato cioè è assurdo ad esempio che nell'industria automobilistica delle costruzioni si continuano a usare i polimeri vergini vanno benissimo i polimeri riciclati ed è su questo che sta lavorando l'Unione Europea mi piace anche ricordare in coda a questa tipologia di considerazioni che non a caso non a caso voi avete ricordato il mio ruolo di coordinatore scientifico di Zero West Europe che il network di riferimento a livello europeo sui temi dell'economia circolare ecco qualche settimana fa abbiamo firmato assieme ad UNESDA e Natural Mineral Waters of Europe che sono sostanzialmente l'associazione europea dei produttori di bevande gasate e di acque minerali abbiamo sottoscritto un position paper un paper un documento comune che chiedeva all'Unione Europea di lavorare su linee guida comuni per un sistema di deposito cauzionale proprio perché UNESDA e Natural Mineral Waters of Europe che rappresentano il settore industriale si rendono conto che per aumentare il tasso di circolarità diminuire le inefficienze nel sistema la dispersione di materiali che per loro poi sono costi c'è bisogno di un approccio comune che garantisca questo allineamento che era il concetto su cui stavo lavorando poc'anzi ne stavo discutendo con voi in conclusione secondo la sua opinione è necessaria un'educazione all'economia circolare? questo assolutamente sì l'educazione è uno dei motori primari per qualunque innovazione in sede comportamentale il comportamento individuale o di una comunità di una collettività nel suo complesso però se posso l'educazione da sola non basta noi diciamo sempre che l'educazione e l'informazione devono essere il carburante che però deve essere introdotto nel motore giusto il motore giusto deve essere l'organizzazione dei sistemi cioè in altri in altri in altri termini io posso educare fino allo sfinimento la gente ma se poi non viene organizzato un sistema di raccolta differenziata oppure nel caso specifico di restituzione dei materiali soggetti a deposito cauzionale che sia conveniente nel concetto di convenienza non c'è solo la convenienza economica c'è anche la convenienza di abitudine la comodità ecco se io non sono in grado di predisporre questi sistemi il cambiamento comportamentale è più difficile da ottenere e questo qui è un fenomeno che noi conosciamo benissimo ad esempio nel settore delle raccolte differenziate quando diciamo noi possiamo educare quanto vogliamo la gente a fare le raccolte differenziate ma poi interviene sempre quel concetto che noi richiamiamo a noi stessi a chiunque West is like water it always flows the easiest way o in italiano il rifiuto è come l'acqua e scorre sempre nella direzione più facile quindi noi dobbiamo rendere facile il sistema di raccolta differenziata o il sistema di deposito cauzionale renderlo facile significa aumentare il numero dei punti di ritorno del materiale nel caso della raccolta differenziata con la raccolta porta a porta nel caso del sistema di deposito cauzionale con il concetto del cosiddetto return to retail cioè restituzione al punto vendita in modo che è più semplice per il consumatore andare a fare nuovi acquisti e contestualmente restituire anche il materiale però ci ho detto è chiaro che poi tutto questo va sostenuto anche dalla consapevolezza che significa educazione cioè far presente che è stata adottata una nuova norma che prevede questo tipo di meccanismo e quindi a quel punto diventa comodo ed economicamente conveniente per la gente ad esempio partecipare al sistema di deposito cauzionale e quando vanno a restituire il contenitore per bevanda che sia una lattina che sia una bottiglia in vetro che sia una bottiglia in plastica viene restituita la cauzione questo qui nel mondo ideale è questo l'allineamento di tutte le situazioni è un mondo ideale che però è già presente nel mondo reale come dicevo all'inizio in dieci paesi europei e molti altri che stanno adottando lo stesso lo stesso tipo di approccio grazie mille ringraziamo molto per la sua disponibilità per averci illustrato e spiegato questi temi quindi grazie mille grazie a voi e mantenete sempre un occhio sul tema perché ne avete capito l'importanza grazie grazie per la rubrica intelligence delle cose parliamo degli NFT ne abbiamo parlato ne parliamo giornalmente specialisti che si occupano di questo tema sia nel campo delle opere d'arte quindi nel campo artistico sia nel campo delle criptovalute eccetera eccetera ma cos'è realmente un NFT anche per non incorrere in facili entusiasmi e soprattutto essere protetti da questa tecnologia che è rivoluzionaria quanto pericolosa la sigla NFT vuol dire non fungible tokens cioè traducibili come gettoni non replicabili ovvero dei contenuti digitali che rappresentano gli oggetti del mondo reale quindi diciamo un po' essere proiettati all'interno del mondo virtuale attraverso il veicolo però del mondo reale tipo attraverso questi veicoli possiamo chiamarle opere d'arte musica giochi o addirittura collezionismo allo stato puro ma anche cose molto più serie che sono i cosiddetti denari che noi mettiamo attraverso appunto questi gettoni si tratta evidentemente di certificati di autenticità che rendono ciò a cui sono applicati dei contenuti digitali intangibili qualcosa però di unico di intercambiabile questi certificati vengono creati tramite la tecnologia blockchain cioè una struttura di dati che si basa sulla condivisione l'immutabilità all'interno del quale ci sono delle voci sono registrate dei blocchi collegati in ordine diciamo cronologico come se fosse una cosa a sé stante ma tremendamente veritiera in cui una criptografia garantisce l'integrità del sistema nel tempo gli NFT vengono per esempio utilizzati per certificare le opere d'arte ovvero viene creato un protocollo condiviso che attesta l'originalità di un elaborato artistico questa parte diciamo apre e completa quel mondo della blockchain in cui per dimostrare il diritto su un'opera o su qualsiasi causa c'è bisogno poi ovviamente di una garanzia che chiamiamo lo smart